Allora, ti spiego il gioco, dobbiamo fare un gioco insieme, dobbiamo giocare con tre clave, ok? E' un numero difficilissimo, per cui appena una clave cade a terra, tu la prendi per a volte, però devi essere velocissimo. Sei pronto? Facciamo una prova! Bravo, 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 attenzione, è caduto qui qua. Allora, aspetta, ok. Prima di iniziare, dobbiamo fare anche una sfilata. Io vado avanti e tu mi segui. Bravo, 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 ok. Prima di iniziare ancora, facciamo un po' di riscaldamento, va bene? Allora, mettiti così, devi fare uno, due, tre, vai, uno, due, tre, bravissimo. Ora devi fare, sciogli, 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 vai, aspetta, ti do una mano io, mettiti così, si fa così, sciogli, 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 sei pronto? Sei sciolto? Ok, perfetto, bravo. Hai nome d'arte? Nome d'arte? No, no, ti presento io allora, va bene. Signore e signori, vi presento l'assistente del giocoliere Lion, il signor Ciccio! Un applauso, forza! Allora, mettiamo un po' di musica, sei pronto? Partiamo con la sfilata, ok? E qui, poi su con le mani! that, v wirci! The E A Mitrijine lli! E qui! Oh, è la rota! E qui! E qui! E qui! Edi! E qui! E qui! E qui! E qui! L'asc barba! L'asc barba! E qui! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.